Queste sono le giacche della linea Maxwell per la collezione autunno-inverno, sicuramente c'è stato fatto un salto in più per quello che riguarda le finiture e tessuti, infatti queste nuove collezioni di giacche sono marcate con la caratteristica Prestige. La giacca comunque sostanzialmente viene fatta una giacca a due bottoni, un reverb molto sottile, molto semplice, la tasca con pattina che volendo quando si apre diventa, si mette dentro e diventa una tasca a filetto, mentre nella parte posteriore le giacche hanno tutte il discorso di un doppio spacchetto. Cosa interessante, lo faccio qui sul manichino per farvi rendere conto, abbiamo un tessuto elasticizzato, quindi abbiamo una giacca leggera e molto confortevole. Poi nelle varie modelle sicuramente la dita ha fatto dei particolari, qui in questo modello che si chiama Fiorino, la particolarità ce l'abbiamo sicuramente nella pattina, nella parte in alta del taschino e soprattutto nel discorso della manica, come vedete anche la particolarità del bottone di usare un filo contrasto. Allo stesso tempo abbiamo una giacca sfoderata e il discorso del tessuto elasticizzato. Un altro tessuto sempre molto interessante di questa linea Prestige è questo modello qui di giacca che si chiama Cubo, ha questa micro lavorazione, anche un po' di corale, un po' di colore per l'inverno. Anche qui abbiamo sempre una giacca sfoderata con una sua lavorazione particolare in fodera e sempre la stessa identica modellistica della giacca che vi ho presentato prima al manichino con due spacchi dietro. Per quello che riguarda la tua vestibilità prendi una tua maglia, il tuo giubbotto ci trovi bene. Misuralo da lato a lato, guarda la nostra tabella taglia espressa in centimetri per trovare la tua tabella taglia. Taglia forti uomo arrivi, siamo sempre una taglia avanti.